pronto l'elfo centrali non c'è ma puoi dire a me come no a casa di babbo natale va in onda da mercoledì 6 dicembre ore 18 e 15 come faccio a saperlo lo so perché io lo so mi scusi ma lei telefona per una cosa che non sa e chiede a me perché la so innanzitutto non alzi la voce e per cominciare da dove chiama immaginavo guardi immaginavo a casa di babbo natale da mercoledì 6 dicembre ore 18 e 15 mercoledì giovedì venerdì perché io lo so